Confrontiamo la Premier con la Serie A, il filtro di C della squadra, la più forte fa punto, chi arriva prima 3 vince, Manchester City, già voi dite che è impossibile vincere, se partiamo così potrebbe esserlo. Vediamo come risponde la Serie A, ma praticamente sarà inutile l'Inter, vabbè non perché l'Inter, ma competere con il City è impossibile, quindi 1-0 Premier. Quindi partiamo in svantaggio, Southampton adesso per la Premier, vai possibilità di pareggiare, vediamo, no Cremonese, 2-0 Premier è disastro. E adesso qua c'è il match point per la Premier con il Brighton, attenzione, Brighton che sta facendo tra l'altro benissimo, quindi abbiamo bisogno di una buona squadra ed è la Juventus, vai. Secondo match point per la Premier che è sul 2-1 e c'è il Newcastle, ma attenzione perché con una buona squadra possiamo andare sul 2-2 e giocarcela all'ultimo ed esce il Napoli nel perfetto momento in cui ci serviva, quindi 2-2. Siamo una piccolissima, Leverton, attenzione, Leverton, e qua abbiamo l'occasione della vita per vincerla perché Leverton sta andando malissimo ed esce il Milan e quindi 3-2, seria meglio della Premier, ma che rimonta da 2-0 3-2, mamma mia.